Quella che si è celebrata ieri sera con il Golden Gala nello Stadio Olimpico di Roma. A onorare il grande barlettano scomparso nel marzo scorso, i migliori specialisti internazionali delle discipline olimpiche, a cominciare dal campione del mondo della velocità, Usain Bolt, battuto a sorpresa nei 100 metri dall'americano Justin Gatlin. Ma in vetrina, a onorare ancora meglio Pietro Mennea, proprio un pugliese, Daniele Greco, 24 anni di Nardò, che nel salto triplo, disciplina di cui è campione europeo indoor, ha conquistato con 17 metri e 0,4 un secondo posto di assoluto livello mondiale ad appena 4 centimetri dal vincitore l'americano Christian Taylor, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra. Ecco Greco al microfono di Elisabetta Caporale. Una grande soddisfazione, un monumento come Pietro Mennea che ha calcato questo anello, passarci io sopra per me è stata una grande soddisfazione e per questo ho voluto omaggiarlo comunque anche della mia presenza nei suoi funerali. Speriamo lui dalla sua ci guida, spero che mi dia una mano anche lui per continuare a fare i risultati.